Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici, tornati adesso, Carrefour, tornati anche dall'allenamento di calcio e sarà estremata, giusto? Sì. Sì, perfetto. Per questo il mio inizio non era bello carico. Non era bello carico, sì. Allora, è iniziata oggi, praticamente, cosa succede? Da Carrefour, per i Carrefour Market e l'Hyper, a Marvel e quindi abbiamo, vediamo come funziona la regola, se la troviamo. Ecco qua, un bollino ogni 20 euro di spesa nei Carrefour, Hyper e Market ogni 15 euro negli Express e ogni 25 su Carrefour.it Questa che non la sapevo, va bene. Allora, con quattro bollini potete avere la sacca. Vediamo la sacca. E' questa qua, quella lì. Questa qua. Con cinque i bicchieri. Che è quello che vogliamo noi, perché ci avviciniamo. Quello che vogliamo noi, il bicchiere. Con sette la tazza. Che è carina, ma non la vogliamo. E con dieci oltre lì, o i piatti. O i piatti, esattamente. E vogliamo il bicchiere di Ironman. Diciamo che poi ci sono, sui volantini che potete trovare anche online, le offerte che accelerano l'acquisizione, ecco qua, di nuovo la spiegazione di tutto, dei buoni. Vedi, qui ci sono dei prodotti. Noi abbiamo preso la pasta, non mi ricordo dov'è. E praticamente ogni due confezioni 120 punti con la carta payback del Carrefour che si trasformano in bollini per i regali Marvel Collection. Quindi, sono contento, voglio i bicchieri, tu cosa vuoi? Bicchiere. Quale? Di Ironman anche io. No, quello è mio. Non puoi averlo. Fa niente, forse è il più bello. Va bene. Lasciamoglielo. No, lasciamo, ne prenderemo due allora. Oppure quello di Hulk. Tu sei più simile a Hulk? No, meglio Ironman. Va bene. Oppure tanto i bicchieri si lavano e poi ci si scambiano. Sì, infatti. Sì, infatti. Magari Thor. Va bene, guarderemo il primo, lo guarderemo insieme e ve lo faremo vedere. Ma però questa volta c'era solo quello di Ironman in pratica, dal vivo. Uomo ragno anche, non è male. Ironman è il migliore. Perfetto, vi aggiorneremo. Faremo qualcosa di questa collezione, non credo tutto perché telo e piatti non ci interessano. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, condividere, commentare. E come sempre... E noi vi sorgiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!